Anche se alla fine ci sarà purtroppo una fine e non gli piacerà per nulla, o forse sì, perché era l'unica, banale, idiota fine possibile, perché quelli come lui sono nati per fare una brutta fine, eppure di scriverla non possiede l'eroismo del silenzio. Nella sua vita ha scritto mille lettere di addio, ma su un cazzo di divano scrivere una lettera con una penna è scomodo, fu scomodo, e non la scrisse. Lui era già un addio, ora cominciamo davvero.